Buonasera a tutti. Benvenuti a quest'ultimo webinar della giornata, targata Anchors e ConfoAssociazione. Il webinar da titolo Comunicazione e Sicurezza sarà tenuto da Adriana Picella, direttore generale di ConfoAssociazione, esperta in giornalismo digitale ed economia in lingue dell'adovisivo, laureata in lingue e letterature straniere ed in scienze della comunicazione, giornalista pubblicista con esperienze lavorative, maturate presso redazioni regionali, produzioni televisive come capo redattore per conto di Rai, Mediaset e Sky come giornalista e conduttrice TG, direttore responsabile di riviste nazionali di settore per architettura immobiliare. È stato funzionato preso il grande per la privacy del 2010, ha curato la comunicazione video per Covid. Attualmente è docente per la scuola superiore, per interpreti e traduttori SML, Gregorio VII per la carta di giornalismo e comunicazione digitale, ed economia e gestione delle imprese creative e multimediali dell'adovisivo. Nel 2012 le è stato conferito il premio speciale per la cultura dell'informazione, euro-mediterraneo, per la sua attività giornalistica. e inoltre Network Development Italia Manager per Ancors. Ricordiamo a tutti che gli atti del webinar di oggi e domani saranno disponibili nei giorni successivi sul nostro sito www.ancors.eu e che gli attestati con i crediti formativi saranno inviati a Mizzini. Potrete inoltre rivolgere le domande direttamente al relatore innostrando una mail a webinar.anforse.eu. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. La parola alla dottoressa Adriana Picella. Grazie Paola, grazie per questa introduzione e buonasera a tutti i presenti in chat e in video. Allora, oggi tratteremo appunto l'argomento della comunicazione e soprattutto di come viene comunicata la sicurezza nella comunicazione in tutti quelli che sono i media. Partiamo da quelli che sono gli ultimi, i nostri media più ricorrenti che sono appunto i social network. E partiamo dagli esordi perché nel 1983 il Time ha dedicato, sappiamo il Time quante copertine dedica ad alcuni aspetti emblematici della nostra vita. Nel 1983 il Time ha dedicato la sua copertina all'uomo dell'anno che è stato il computer. Infatti da quell'anno in poi cambiano tutte le nostre abitudini, tant'è vero che iniziamo ad usare sempre più il computer. Diventa oggi, diventato oggi un nostro alleato fondamentale, cui poi nel corso degli anni si sono aggiunti l'uso del cellulare, poi dello smartphone e poi tutto quello che offre la rete con i social network che vedremo più avanti. In questo momento, dal 1983 in poi, in effetti si apre l'era in cui la connessione con il mondo della rete ci sarà per H24 e anche se questa connessione va a diminuire la connessione fisica tra le persone. Tra l'altro in questo periodo lo stiamo vivendo molto fortemente. Ovviamente se non ci fosse stato il computer tutto ciò, se non ci fosse stata la tecnologia tutto ciò non sarebbe stato possibile, però non dobbiamo dimenticare la connotazione umana. Nel 2007, non finisce qui la storia perché nel 2007, il Time dedica un'altra copertina sempre all'uomo dell'anno, in questo caso U, cioè ogni singolo offritore della rete. Infatti la copertina era in effetti caratterizzata da uno schermo riflettente per cui andando ognuno di noi a guardare quella copertina veniva riflessa la nostra immagine e quindi in automatico ognuno di noi è stato nel 2007 uomo dell'anno. E da questo momento in poi non siamo più solo utenti della rete, ma anche produttori di contenuti proprio grazie all'esplosione dei social network. E lo vediamo quanto, quanta esplosione e quanti contenuti noi produciamo in positivo e in negativo. Circa, sono quasi 4 miliardi, in effetti sono 3,8 miliardi di persone che utilizzano regolarmente i social media e oltre 4 miliardi e mezzo sono le persone che sono connesse costantemente ad internet, quindi non soltanto ai social media. Sono circa 300 milioni di utenti che hanno avuto accesso ad internet per la prima volta nel corso del 2019, quindi più di un anno fa. Quasi due persone su tre sono connesse, infatti i dati 4 milioni e mezzo dimostrano che circa il 64% della popolazione è connessa ed esprime però anche preoccupazione riguardo al modo in cui le aziende stanno utilizzando i loro dati personali, anche se la metà di queste persone che sono collegate regolarmente utilizzano dei ad blockers. Ultimamente avete seguito sicuramente la faccenda WhatsApp Signal, quale dei due avrà la prevalenza, in quanto si dice che WhatsApp dall'8 febbraio vada un po' a veicolare tutti quelli che sono i dati che facciamo circolare all'interno del social network. Indubbiamente ci sono degli articoli, mi sono documentata, ci sono degli articoli che testimoniano che in effetti non cambierà nulla perché la nostra privacy, la privacy nazionale, ma anche quella europea a seguito del GDPR che è andato in esecuzione da qualche anno, che è in esecuzione da qualche anno, dovrebbe in effetti lasciare inalterate le cose. La questione è ancora aperta anche perché dobbiamo dire che chi è proprietario di Signal, oltre a essere il titolare di Tesla, cioè Musk, ha come socio un ex socio di WhatsApp. Per questo dico che la partita è aperta, ma dobbiamo stare attenti appunto su come dare i nostri dati. Questo è il primo alert che indico per quanto riguarda la comunicazione e la prevenzione sulla comunicazione, perché anche in questo caso si parla di sicurezza personale. Inoltre il 56% degli utenti sono anche molto preoccupati per il tema delle fake news. Le fake news sappiamo quanto hanno lavorato, e lo vedremo successivamente, quanto hanno lavorato durante il periodo del Covid. Ancora, oltre due persone su cinque sono connesse ad internet e utilizzano con regolarità i comandi vocali, anche il semplice Siri o per Android, insomma Google Play, mentre quattro su cinque sono quelle che scelgono il gaming come forma di intrattenimento su base almeno mensile. Per cui ecco quello che si diceva, l'H24, cioè le persone che si collegano a H24 dal 1983 in poi, è ben dimostrato. L'Italia comunque si dimostra da questi dati, presi come fonte da Digital 2020, War Social e Hot Suite, che ogni anno fa un report sull'uso dei social e sul limite di sicurezza che hanno le persone nell'usare i social, rappresenta e si conferma comunque un paese abbastanza maturo ed è in crescita per tutto ciò che è tecnologia, sia per internet, quindi sia per le piattaforme social e per le nuove tecnologie. Sono quasi 50 milioni le persone online in Italia, che su base regolare sono collegate, e 35 milioni quelle presenti e attive sui canali social. Comunque un trend in aumento rispetto ai dati rilevati nel 2019. Che cosa facciamo noi ogni giorno, magari anche senza rendercene conto? Ebbene i dati dimostrano che trascorriamo circa sei ore connessi ad internet, un'ora e cinquantasette minuti, quindi quasi due ore sui social. Nel 2019 era leggermente inferiore il tempo, perché era un'ora e cinquantuno minuti. Cresce dal 30 al 35% rispetto all'anno scorso l'utilizzo di assistenti vocali da mobile o device dedicati. Un italiano su 12, lo vediamo in questa seconda slide, possiede device per lo smart home, quindi per la smart home, quindi per tutti quelli che sono i comandi dedicati alla casa, mentre è triplicata la penetrazione della categoria dei wearables, cioè tutti quei dispositivi che vanno a tracciare l'attività fisica o la salute in senso generale. Ma anche questo significa dare dei dati personali a qualcun altro. Sembra che sia ancora indietro, ma non lo è tanto, considerando anche la velocità con cui si muove tutta la tecnologia, la percentuale sull'adozione dei dispositivi di realtà virtuale, attualmente in mano al 3% degli italiani. L'uso degli smartphone comunque, ma era inevitabile, ha raggiunto livelli di saturazione, visto che circa il 98% degli utenti social si connette da dispositivi mobili, quindi da smartphone appunto. A questo poi si aggiunge un altro dato. Non siamo più su basi di dati quantitativi, ma anche qualitativi, perché si contribuisce al dialogo. Quindi iniziamo, ecco qua, testimoniato, come noi siamo anche produttori di contenuti, in quanto nel trasferire una nostra emozione, nel mettere un like, nel fare un commento, nel fare una condivisione, sicuramente creiamo coinvolgimento. E questo trend è salito dal 74% all'81%. Nel 2019 era del 74%, nel 2020 è salito all'81% e vedremo poi nel corso del 2021 se il trend sicuramente continuerà ad essere in crescita. Quindi abbiamo detto che noi utenti siamo creatori di contenuti e quindi possiamo creare qualsiasi cosa, ma non tutto il dialogo che si genere in rete, qui iniziano gli alert, è costruttivo o positivo, perché ci possono essere anche molti fenomeni, lo vedremo successivamente, di disinformazione. Infatti, più di una persona su due, in effetti, ha espresso una profonda preoccupazione per quanto riguarda il tema delle fake news, che nel 2020 hanno amplificato la loro presenza. Un'altra preoccupazione è legata, e l'abbiamo appena detto, con il caso WhatsApp Signal, dal trattamento dei dati personali, parliamo del, siamo sempre dati 2019, attenzione, il 59% ha questa preoccupazione. Quello che però conforta è che cresce contestualmente anche l'utilizzo di strumenti che aiutano un po' a prevenire tutti quelli che sono i pericoli insiti nella rete, che vedremo successivamente, cioè gli strumenti di adblocking. Si va ad attuare una regolare cancellazione dei cookies, che oggi, cioè che oramai dal GDPR, ci vengono chiesti costantemente all'apertura di ogni pagina, e l'utilizzo di sistemi o di app per il tracciamento dello screen time, il cosiddetto tempo di utilizzo che ci compare sui telefoni, siano esse iPhone, siano esse Android, settimanalmente. Questa settimana si è stato collegato tot tempo al cellulare. Sicuramente vi sarà capitato. Ma la domanda è proprio questa. Quanta conoscenza c'è nell'usare, in maniera corretta, questo mondo parallelo, perché il mondo virtuale è comunque un mondo parallelo, e tutti i suoi strumenti. Ancora oggi, nel terzo millennio, la cultura della security awareness, quindi avere consapevolezza di dover e di poter essere sicuri con le azioni che si fanno, è ancora una materia per poche persone. Questo è facilmente dimostrabile, con un piccolissimo esempio, perché, e lo dice proprio la slide, direttamente proporzionale all'aumento della vita social delle persone, cresce l'abitudine di condividere su siti, che poi risultano essere facilmente aggredibili da cybercriminali, non pensate che ci voglia chissà che cosa, e dopo ci sono dei dati che vi testimoniano, quanto vi sto dicendo. Sono facilmente aggredibili da cybercriminali. Primo fra tutti, l'utilizzo della posta elettronica. Io trasferisco delle informazioni aziendali attraverso la posta elettronica, magari non li trasferisco in maniera adeguata, e quindi automaticamente posso essere aggredita dai cybercriminali. Così come, ed è successo moltissimo durante lo scorso anno, a causa del Covid, molte mail sono arrivate, diciamo finte, però travestite da messaggi molto importanti, per cui si andava ad aprire la mail perché magari arrivava dall'agenzia delle entrate, perché magari arrivava dal Ministero della Salute, perché magari arrivava dalla propria banca, e quindi automaticamente si diventava vittime di un attacco cyber. Infatti, circa l'80-90% degli incidenti di sicurezza informatica sono legati agli errori dell'uomo. Sono circa, sono oltre il 50% gli attacchi cyber, dovuto a cause esterne, quali password deboli e non affanumeriche. Attenzione a quando inseriamo le password, inseriamole con un livello di sicurezza medio-alto. Cambiamole costantemente perché è facile recuperare o essere vittima di un attacco anche sul proprio profilo social e quindi vedere il proprio profilo hackerato. Accesso di device aziendali a connessioni pubbliche, quindi magari connessioni pubbliche non protette, per cui è facile che si venga contaminati. Navigazioni in siti non sicuri, nella banda, nella ur del sito, di solito esce scritto se il sito è sicuro oppure no. Attenzione, non sicuro. E trasporto di dati sensibili con chiavi USB non cifrate, per cui andandole a perdere è facile che vengano poi prese da altre persone. Le statistiche mettono inoltre in evidenza che circa il 90% dei programmi malware, cioè quelli che vanno proprio a ripetare, si installa a causa di errori umani effettuati da utenti fondamentalmente inconsapevoli. Io mi trovo in una pagina e non capisco come mai ci sono entrata, dopodiché succede il patatrack. E questo dato conferma che sono proprio le persone l'anello più debole per la sicurezza dei sistemi e delle reti. Il dato che poi può sembrare paradossale è che tra l'altro sono proprio le persone, l'elemento chiave, il fattore chiave, che permette di realizzare un efficace sistema di sicurezza in azienda. In che modo? Aumentando la loro consapevolezza, la awareness, su quelli che possono essere i potenziali pericoli, i rischi e le minacce che sono legati ai sistemi e alle informazioni che vengono utilizzate durante la loro attività lavorativa. Quindi attenzione anche a questo. Ecco appunto, questa è la slide dove si va a vedere come le tecniche di attacco siano in effetti legate a vittime che sono inconsapevoli di tutto ciò. E tra l'altro sono gli attacchi gravi che possono essere realizzati con relativa semplicità e a costi molto bassi. Quindi basta un nulla. La tabella lo dimostra. Le tecniche di attacco meno sofisticate, queste qui le malware, rappresentano il 76% del totale degli attacchi. Tra l'altro anche queste sono percentuali in crescita che non tendono ancora ad invertirsi. Ecco andiamo sulla storia di quello che è successo durante il periodo del Covid, tutti gli attacchi informatici. Sempre alla fine del 2019 è stato pubblicato l'ultimo report di Kasper Sky, A Story of the Year, Remote Work, dove si è andato a registrare una crescita del 280% degli attacchi forti, pesanti, sui protocolli RDP per un totale di 174 miliardi di file dannosi mascherati da applicazioni di comunicazione aziendale. Quindi vedete che percentuale notevole c'è stata di... che trend fortissimo di crescita c'è stato rispetto all'anno precedente. Questo perché? Proprio perché gli anelli deboli, cioè le persone, in questo caso sono stati dipendenti che hanno iniziato a lavorare in smart working, quindi che non avevano già una profonda conoscenza di quella che era la rete e come pure tutti coloro che hanno utilizzato a utilizzare strumenti di comunicazione online e servizi di acquisto online. Tutte le persone in casa, non avendo mai utilizzato un'applicazione, hanno iniziato a lasciare i propri dati, hanno iniziato ad aprire tutte le porte e quindi si sono trovati inconsapevolmente attaccate da questi hacker. Quali possono essere le pratiche al di là di prestare attenzione prima di tutto al sito, vedere se è sicuro, non è sicuro, la mail che ci arriva, se effettivamente è quella di una banca, dell'ente. Di solito dopo la famosa chioccioletta ci sono sempre dei simboli un po' strani. Attenzione a quelle mail. E poi fare un backup periodico dei propri dati, diffidare appunto da queste mail in attese, attivare tutti gli antivirus essenziali per poter proseguire nel proprio lavoro, verificare tutti i plug-in che sono installati all'interno dei browser, quindi anche se in effetti si gestisce un sito, attenzione a tutti i plug-in. Accedere a tutte le memorizzazioni in cloud bisogna accedere solo per il tempo strettamente necessario, altrimenti i dati iniziano a navigare e segnalare eventuali anomalie anche alla stessa polizia postale che in effetti si occupa proprio di verificare quali sono gli attacchi forti che ci colpiscono. Intanto fuori che cosa succede? Ecco qua, succede quello che abbiamo detto, cioè le fake news, l'aumento delle fake news, perché poi in effetti le fake news in ambito giornalistico informativo sono sempre esistite. Prima avevano un nome italiano, Bufale, ma con la pandemia ecco si ritorna spesso il termine fake news. In effetti anche prima della pandemia con l'avvento dei social si ritornava spesso su questo termine, tant'è vero che nel testo unico dei giornalisti solo qualche anno fa è stato inserito nell'articolo 2 la postilla che i giornalisti non devono postare, non devono pubblicare fake news, quindi devono lavorare in maniera attenta così come la loro odontologia porta, ovvero verificare sempre le fonti. Qui vi ho messo un po' di esempi di tutte quelle, ecco qua, questa è una mail falsa, una mail che in effetti è circolata tra l'altro dalla World Health Organization, quindi dall'Organismo Mondiale della Sanità e in periodo di Covid sicuramente toccare un argomento quale quello della salute sicuramente poteva ecco creare attenzione, per cui in automatico magari si poteva andare ad aprire la mail e quindi in maniera inconsapevole si era autori di un autoattacco. E poi qua ecco tutti gli articoli che sono usciti e tutte le varie attività che sono state portate avanti anche dagli stessi social, vediamo lo stesso Facebook che cerca di bannare tutte le fake news. Sicuramente le fake news durante il periodo del Covid hanno avuto una velocità e una presenza fortissima. ecco qua, Facebook ha segnalato 40 milioni di post con fake news solo durante il periodo del Covid. Quindi bisogna sicuramente questo per chiunque, anche per chi si occupa di sicurezza e magari trova un articolo che parla di queste cose, attenzione a quello che si va a moltiplicare, anche perché più il fake è condiviso sui social, più aumentano le possibilità di viralizzazione e quindi di disinformazione. Quindi attenzione sempre a quello che si va a condividere. Meglio aspettare, verificare e poi far circolare la notizia anziché creare un danno di disinformazione che difficilmente si può fermare. Un'altra attenzione, un altro alert di cui sicuramente avete sentito parlare sono i deepfakes che sono dei bot, degli algoritmi in grado di manipolare ancora di più l'informazione trasformandola del tutto. Questo ad esempio è un'immagine, nel senso è stata presa come immagine Obama, al quale è stato fatto dire andando a lavorare sul movimento del labiale grazie proprio a questi algoritmi, delle cose completamente diverse. Ma non è soltanto Obama l'esempio, ne possiamo fare tantissimi. Tra l'altro, tra le applicazioni di gioco che abbiamo, ne abbiamo pure una con la quale ci divertiamo a coprire con il nostro audio il labiale di un determinato attore per far dire una frase simpatica, giusto per divertirsi. Però il sistema è lo stesso. Ora andiamo su un altro tema, su quello che possono provocare i social network. E qui apro una piccola finestra, perché tutti noi abbiamo visto quello che è successo il 6 gennaio in America, al Campidoglio americano. Ebbene, i social network hanno un'altra caratteristica pure, cioè quello di farci entrare, sono le cosiddette eco-chamber, cioè delle camere d'eco, dove poi dei meccanismi cognitivi, quindi il seguire quel determinato discorso, porta a far seguire solo quel determinato discorso, nel senso che si aprono finestre e comunicazioni e conversazioni solo su quel determinato punto di vista. Ovviamente se il punto di vista è sbagliato, si può creare una disinformazione online, che secondo quello che si dice in America, ha messo a rischio tutto, compreso l'assetto democratico. Quindi bisogna stare molto attenti a non entrare in queste camere d'eco, oppure vedere altre fonti su altri canali e andarle a confrontare. Anche nel caso di sicurezza sul lavoro, magari circola una qualche notizia, facciamo attenzione, poi vedremo le notizie che attualmente circolano e quanto peso bisogna dare, come si può fare per aiutare alla prevenzione sulla sicurezza. Vediamo, ecco, in quel caso, magari ci può essere una disinformazione su un determinato prodotto che potrebbe far male o potrebbe far bene, ma le logiche sono semplicemente logiche economiche, e quindi in automatico si entra in un tunnel di disinformazione da cui è difficile uscire. Come si può fare? Prima di tutto è fondamentale creare la cognizione, quindi anche la conoscenza e la consapevolezza, che l'uso della rete deve essere creativo, critico e consapevole. Cioè io devo sapere dove sto. Quando percorro una strada, devo andare in un punto, studio la strada o comunque seguo un percorso che mi dà il mio navigatore, che se non impazzisce mi porta direttamente in quella strada. Ecco, nel caso in cui impazzisce, è come se avesse preso, fosse entrato in una camera d'eco, che mi porta in un'altra strada, da cui è difficile uscire se io non conosco il percorso, o comunque non ho dei riferimenti. Mi auguro che in questo modo l'esempio sia stato più chiaro. Quanto è accaduto negli Stati Uniti il 6 gennaio 2021, quindi passerà alla storia, non soltanto come una fortissima crisi, forse la maggiore affrontata dall'America, ma anche come segnale inequivocabile di quanto i nuovi media siano diventati centrali nel determinare i movimenti di massa e condividere informazioni in tempo reale. Un caso simile, ma sono oltre dieci anni fa, è successo con la Primavera Araba, perché la stessa Primavera Araba, ad esempio, si è sviluppata e ha preso piede proprio attraverso l'uso dei social, che però, trattandosi di dieci, undici anni fa, erano presi un po' sotto gamba, ma le persone si organizzavano la sera attraverso i social per fare tutte le azioni che poi sono state fatte a chi hanno portato al bene e al male del post Primavera Araba per questi paesi che l'hanno, diciamo, portata avanti in tutti i paesi del Medio Oriente e sappiamo le conseguenze che ci sono state, a portare avanti queste battaglie, quindi trovare una libertà che però a volte si è trasformata in una dittatura ancora più forte. Però anche in quel caso i social sono stati i veicoli, in questo caso, cioè undici anni dopo, la situazione è stata ancora più forte, anche perché lo stesso Trump ha sempre utilizzato i social come canale di informazione. Quindi attenzione, ecco, quando vedete che è un messaggio, un altro esempio banalissimo è quello del programma report che dicevano venisse chiuso e quindi bisognava vederlo. I dati invece, ora che sta andando verso la chiusura, perché non si può chiudere un programma così per ideologia politica, le problematiche possono essere altre, però i dati dimostrano che il programma report è tra, diciamo, i più vissi e ascoltati, quindi ben lontano da quello che si diceva nei messaggi che arrivavano, vediamo, vediamo, altrimenti Siegfried viene mandato a casa. Non è assolutamente, anche questo è stata disinformazione. Ancora un altro elemento forte che ci tocca da vicino, appunto legato all'incapacità di conoscere quali possono essere le principali minacce online, sono quelli legati al mondo adolescenziale, ragazzi e adolescenti, perché nonostante i ragazzi siano così abili, siano nati quasi con il cellulare in mano, però non sanno ancora riconoscere e quindi evitare determinati pericoli, perché i dati dimostrano che è ancora molto diffuso l'uso di videochat esplicitamente a sfondo sessuale, dove un ragazzo su cinque ha tra i dieci e quattordici anni. È molto diffusa ancora l'emulazione di fenomeni e ideologie pericolose, gli online challenge, i selfie, i video estremi, quante persone per un selfie estremo hanno perso la vita, videogiochi violenti, autolesionismo, quante persone lo fanno per il puro gusto, ma senza capire dove stanno andando. Molto diffusi sono i tentativi di adescamento online, uno su quattro riceve proposte da sconosciuti, uno su dieci li riceve con una certa frequenza, uno su sei è stato vittima di tentativi di coercizione da parte di persone malintenzionate. E poi ancora molto pericolosa è la pratica del sexting, per cui in media uno su sei e uno su quattro a circa 16 anni viene coinvolto in questa pratica che può portare a ricatti, estorsioni, danni seri all'immagine personali e nei casi più gravi al suicidio, anche perché il diritto all'omblio ancora non è stato perfettamente regolamentato, per cui quello che c'è sulla rete resta per parecchio tempo e questo crea sicuramente problemi per la persona che viene colpita e per le persone che sono attorno a quella persona. Quindi, che cosa fare? Bisogna prima di tutto sensibilizzare le persone sulla sicurezza informatica e su questo non ci piove e uno degli elementi essenziali è appunto la formazione che deve diventare non un obbligo, cioè fare dei corsi di formazione per la sicurezza informatica non deve essere visto come un obbligo, ma un percorso culturale che è capace di modificare in maniera profonda, in maniera consapevole i comportamenti delle persone che navigano su internet. Quindi, gli utenti bisogna trasformarli agendo sui comportamenti e per fare tutto ciò bisogna favorire una cultura della prevenzione, perché è sempre risaputo che prevenire è meglio che curare. Adesso entriamo nel discorso legato proprio alla sicurezza sul lavoro e a quanta cultura della prevenzione si fa in ambito sicurezza sul lavoro. Beh, purtroppo è ancora troppo poca, perché quando si parla di incidenti sul lavoro, lo spazio che viene data alla notizia è legato al fatto, al fatto di cronaca. Ma, se andiamo, vi ho messo qualche link che non apro per proseguire, ma comunque sono a vostra disposizione. Tra l'altro è facilmente risalibile, è facilmente comprensibile tutto questo, basta mettere sul motore di ricerca incidenti sul lavoro, notizie, incidenti sul lavoro. Vedete quante notizie escono quotidianamente, ho fatto anche uno screenshot dell'ultima settimana. e come vengono date? Ebbene, vengono date, viene data la notizia in quel momento, nel senso che si dice che cosa è successo a quella persona, com'è successo, quanti anni ha, se è ancora, speriamo, in vita, oppure se purtroppo è venuta a mancare. Il resto finisce, cioè non c'è più né un là. Magari il giorno dopo sarebbe carino ritornare sulla notizia per dire ecco, fare, si fanno tanti special, perché non se ne fa uno periodicamente sul quale possono essere gli elementi che aiutano la vita delle persone, su quali sono le prevenzioni. È vero che è tutto normativamente scritto, ma difficilmente applicato o è ancora visto come un obbligo. Bisognerebbe fare come prevenzione, prima di tutto, dei programmi legati a quello quanto possa essere importante, far capire alle persone quanto è importante prevenire. Certo, abbiamo per esempio qualche pubblicità, qualche comunicazione sociale che ci dice, ad esempio, l'uso della cintura, se non la metti, e quindi fanno vedere alla fine che cosa è successo. Queste pubblicità sono nati da ispirazioni di pubblicità anglofone dedicate allo stesso tema. quindi pubblicità forti. Però effettivamente, perché non lo si fa anche su quelli che sono gli incidenti sul lavoro? Allora, infatti vedete, qua ce ne sono degli altri e qua, ecco, questo è proprio tutto quello che è successo nell'arco di una settimana. stiamo ancora parlando, come dice sempre il presidente Luigi Ferrara, di un bollettino di guerra. Non c'è pace, nel senso che ci sono sempre, ogni giorno, se non ogni giorno, ogni due giorni, incidenti sul lavoro che possono portare, che purtroppo portano, nella maggioranza dei casi, alla morte. e quindi non solo alla fine della vita di una persona, ma anche a problemi e dolori per la vita delle persone che la circondavano. Quindi, sicuramente, oltre a interrogarsi solo in quel determinato momento, però anche in quel determinato momento, magari quando si dà la notizia, non ci si interroga mai su come fare per limitare gli incidenti e quali misure adottare per essere sicuri. Bisogna, invece, insistere proprio su questo. Magari associazioni di categorie potrebbero, come già fa Anchors, in maniera forte, potrebbero unirsi e portare avanti ancora di più il discorso ogni volta che c'è un incidente sul lavoro, fin quando diventa quasi, ecco, a furia di ripetere le cose, il famoso martello per ogni comunicazione, fin quando non entrano nella testa. Per cui è fondamentale formare e sensibilizzare tutti alla prevenzione sulla sicurezza, sul lavoro, sia fisico che digitale. Abbiamo visto tutti i pericoli che possono sorgere in un uso inconsapevole della rete, sia per uso personale, sia per uso lavorativo, perché oggi, oramai, il computer è lo strumento quotidiano, anche per chi lavora in un certo modo. Sicuramente non sparirà quando tutto tornerà alla normalità, ma lavorerà di pari passo. E questa prevenzione significa proteggere la vita delle persone e fiutare tutte le insidie, nascoste oppure no, che si nascondono dentro ogni atteggiamento superficiale e disattento che si ha sul lavoro. Mettersi il cappello, usare le scarpe, sicurezza, quindi tutto quello che può, tutti i supporti che possono usare il gancio e tutti questi sono elementi essenziali che non devono essere visti come un surplus inutile, assolutamente, ed è questo quello che quotidianamente ognuno di noi, ecco, utilizziamo i social, facciamo dei post, anche per chi non fa sicurezza sul lavoro dei post quotidiani, su quanto sia importante lavorare sulla prevenzione. Ancors ha fatto parecchie attività su questo e abbiamo visto una buona risposta da parte del pubblico che era presente, però bisogna fare ancora di più, ancora di più, perché ognuno di noi è chiamato in causa per lavorare sulla consapevolezza, che la sicurezza e la sua prevenzione sono elementi fondamentali per la vita. Ora, educare alla sicurezza sul lavoro ed educare all'importanza e all'efficacia della prevenzione, abbiamo detto, devono essere comportamenti nostri, ma io aggiungo un'altra cosa, dovrebbero essere materia di studio da inserire nei piani scolastici fin dalla scuola primaria, perché? Perché solo trasformando i comportamenti si può agire efficacemente sui processi di apprendimento, cioè solo lavorando su queste menti ancora cerbe, sui bimbi e poi sui ragazzi e poi sugli adolescenti che sono poi gli adulti del futuro, ecco, in questo modo, con dei programmi sicuramente ben strutturati, si può far capire quanto sia importante la sicurezza e la prevenzione. la prevenzione deve diventare un atteggiamento spontaneo, abituale, come io bevo un bicchiere d'acqua, come io metto il cappotto se ho freddo, magari lasciar per il cappello, oppure me lo tolgo perché magari è caldo, ma deve essere un atteggiamento proprio spontaneo, non possiamo uscire fuori da questo fattore, perché altrimenti perdiamo tutto, soprattutto perdiamo vite. esempio, ritornando anche agli articoli, vorrei tornare, aspettate, volevo riprendere questi articoli, ecco qua, sì, si vede sempre, ok, ecco qua, ecco qua, qui, ecco qua, un italiano di 50 anni che ha perso la vita cadendo dal tetto, prodotto. Ora, era legato, non era legato, sicuramente, purtroppo, dobbiamo dire che molte morti al di là di qualcun altro, ecco qua, vabbè, questo è caduto in mare, questo anche è caduto dal tetto, questo è stato incastrato nel mezzo agricolo, quindi, vedete, ecco qua, ci sta la disattenzione magari della persona della stessa persona, perché forse non ha voluto mettere il gancio, perché forse non ha voluto mettere il cappello, perché forse non ha fatto una serie di azioni, oppure perché mancavano, e quindi, in questo caso, ecco, sicuramente se mancavano è colpa poi dell'azienda che ha diciamo delle ripercussioni penali non indifferenti, però, sicuramente, tutto quello che è il discorso della prevenzione sui atteggiamenti che si devono avere nell'ambito lavorativo, ma io dico anche in quello personale, devono diventare degli atteggiamenti spontanei, anche l'uso dei social, così come abbiamo visto, l'uso del cellulare, l'uso della rete, di internet, quindi entrare e uscire dai siti, attenzione a tutti i siti in cui, ecco, partecipare, dare le mail, questo mi regala questo, e va bene, io metto l'indirizzo email e poi succede il patatrack, perché poi ricordiamoci che quando il prodotto è gratis la merce siamo noi, quindi diamo i dati, non dimentichiamo tutto quello che è successo con il caso Analytic, quindi tutto Cambridge Analytica che è andata a rubare tutta una serie di dati, ma ancora prima abbiamo un grande film che ci parla proprio dell'usurpazione da parte del sistema americano di tutta una serie di dati e quindi attenzione a come ci muoviamo, facciamo prevenzione, ognuno di noi nel suo piccolo la può fare, la può fare anche appunto se ancora non c'è l'abitudine del casco, se ancora non c'è l'abitudine della cintura di sicurezza, insegnare ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti e quindi anche agli adulti quanto siano importanti dei piccoli secondi di attenzione per poter poi proseguire nella propria vita e quindi portare attenzione a tutto quello che significa prevenzione sulla sicurezza. mi ricordo un evento che Anchors ha fatto in Sicilia due stati fa dove appunto in maniera simpatica perché anche questo può essere un modo anche per inserirlo negli stessi piani scolastici per educare i bambini in maniera divertente in maniera simpatica attraverso le canzoni sono stati inseriti tanti elementi legati alla sicurezza o comunque in un ambiente ludico perché è quello poi che si deve fare con i bambini e Paola Amirante che è la direttrice di tutta la parte didattica sicuramente ne saprà di gran lunga più di me su questo argomento e fa tantissime cose su come cercare di divertire i bambini ma aiutandoli a dare importanza a tutto il discorso della prevenzione sulla sicurezza sul lavoro io sicuramente ecco non mi piace il modo da giornalista dico che non mi piace il modo in cui vengono comunicate le notizie sugli incidenti del lavoro perché io farei in modo che gli stessi giornalisti nel dare la notizia potessero inserire di volta in volta visto che purtroppo sono notizie quasi quotidiane potessero inserire di volta in volta una piccola postilla sulla prevenzione non per fare i maestri ma semplicemente per aiutare le persone a salvaguardare la propria vita perché una cosa si dice oggi poi si dice domani poi si dice dopo domani il seme piano piano marcisce nel terreno quindi poi matura e diventa una bellissima pianta ovviamente per queste cose ci vuole tempo non si può improvvisare ma quello che noi possiamo fare è sicuramente da parte nostra visto che ognuno di noi è produttore di contenuti farlo attraverso i social e magari postare voi che parlate e lavorate in questo ambito sicuramente nel postare nel parlare o anche semplicemente nel parlare perché anche il tam tam cioè il passavarole parlare con una persona è un social network il vecchio social network che usavano le nostre nonne ma che poi ecco è stato sostituito da quello virtuale ma comunque non perdere mai occasione per trasferire delle informazioni sulla prevenzione e sulla sicurezza anche nel fare sul lavoro e nella vita sociale quindi anche nel fare quotidiano e poi auspichiamo che in un modo o nell'altro argomenti sulla sicurezza e la prevenzione alla sicurezza sul lavoro diventino materie scolastiche perché questa potrebbe essere la chiave di volta almeno per quelle che sono le generazioni successive aiutare questi bimbi a far diventare un'informazione un atteggiamento spontaneo sicuramente potrebbe cambiare i numeri di quelli che ancora oggi sono bollettini di guerra io con questo ho finito se ci sono delle domande chiedo alla regia di passarmele altrimenti se poi ci sono delle altre ecco nel caso in cui non non riusciamo a passarle allora sì ok e quindi nel caso sicuramente verranno poi prese in considerazione e si risponderà successivamente attraverso la mail voglio quindi sottolineare per concludere la distinzione nel in quello che è il mondo digitale perché ho fatto questa distinzione perché tutto ciò che è social network oggi come oggi oramai è nel nostro fare quotidiano l'abbiamo visto ecco time già nell'83 ci aveva visto lungo tanto che l'ha ribadito il discorso nel 2007 qualche anno fa è uscita con un'altra pubblicità un'altra copertina dove dava importanza dava peso a tutto ciò che era la realtà virtuale in effetti in copertina c'era questo ragazzo questo 22enne un vero e proprio nerve perché aveva creato un'applicazione un software particolare che andava ad implementare tutte quelle che erano le emozioni della realtà virtuale per cui si vede lui con questi google glasses questo apparato di realtà virtuale che salta e dietro di lui un fantastico panorama con mare palme e quant'altro questo per farvi intendere che il confine tra il reale e il virtuale è più vicino di quello che noi pensiamo e che quindi anche quello che vedevamo qualche anno qualche anno fa in qualche film è più vicino di quello che noi ci aspettiamo sarà facile covid anche che ha un po' velocizzato tutto questo processo arrivare anche a questo ma in quel caso la sicurezza essenziale la prevenzione che si può fare è quello di gestire sempre questi strumenti e mai subirli altrimenti abbiamo perso anche in questo caso la nostra vita per cui al di là di qualsiasi altra cosa dobbiamo stare attenti perché io per esempio sul lavoro posso utilizzare sempre lo schermo ma poi non diciamo non sottosto a tutte quelle che possono essere quelle piccole regolette che aiutano la mia vista che aiutano la mia postura ci sono tanti articoli che ci fanno vedere che prima o poi noi inizieremo nuovamente a piegarci ma automaticamente perché siamo sempre più con la faccia rivolta verso uno schermo e quindi la nostra cervicale è sempre più piegata quindi attenzione siamo in un'epoca favolosa perché l'evoluzione è fantastica quella che viviamo ma indubbiamente resta sempre il principio deve essere un mantra gestire ma non subire tutto quello che è tecnologia quindi e questo sia in un ambito in un lavoro fisico perché la tecnologia arriverà anche lì anche se comunque resteranno dei messieri dove c'è la manualità ma in quel caso attenzione da utilizzare i vecchi strumenti di prevenzione che sono sempre quelli più infallibili e poi per quanto riguarda quella che è la nostra vita quotidiana il nostro essere social continuamente attenzione a come ci si muove e magari leggere qualcosa in più in merito a questo e quando si vedono dei segnali strani che adesso arrivano anche su whatsapp e sui vari social infatti molto spesso i profili sono hackerati allora attenzione a quello che si fa per cui adesso vi saluto e se ci sono assolutamente delle domande le aspetto via email grazie per l'attenzione lascio qua i miei riferimenti anche con la mail e vi auguro buona serata grazie grazie a tutti grazie a tutti